... ... ... ... ... ... ... Ehm, ripetemi, 11 queste. No, adesso sono 10, 10, 10 almeno. Ok. Io ho piccolo che libero alla tecnica del mio schiaccio. Ho usato tante volte. Adesso si è troppo caro o no? Adesso si è ancora al 2. È anche lui. Penso che sia almeno 2 turni a testa che siamo alle 2. Io sono appena salito. Io ho fatto una cura più free refresh. E lui continua a parare, sicuro. Si è già curato 3 danni, si è già curato. 2, 2, 2, 3 e continuiamo di stare a flash. Tecnicamente non mi sono curato, però ho preso un danno diverso. Sì. Hai finito? Zio Cariello. Zio Cariello. No, non lo so. Un 5 dentro. Allora ho vinto. Intanto vado avanti a millare. Ehm, non l'ho mai detto. Non lo so. Non lo so ai senior, dei senior, dei senior. Manca solo un altro supporto al senior. Non lo so. Anche la stock è senior. Volevo togliermi dal palco L'erpo umano è sì Si E la scema della World Team è sì No, però è R, è R È il massimo che c'è Eh sì Non è vero, il Climax Signals è stato molto bello Ma i Climax Signals poi sono i più belli alla fine Questa tortura devastante C'è solo un Love Live di Climax No, ma ce n'è un po' di sera che ce l'ha C'è il Clive, c'è Imus Fede, Sword Art Sword Art Vero 9 Con l'8 Climax Devo 4 Climax Signals Uno Zitto zitto Eh, che sei compresso Eh, che sei compresso Se faccio le attacche a due non li fare Eh, no, lo so Eccola Calabranza Non ho paura Non ho paura Di parare qualcuno c'è a fare store E' un po' tutt'ora perché c'è solo Climax dentro Ho capito C'è una carta C'è una carta C'è una carta C'è una carta Ma dov'è il tuo board Io l'ho schiantato per fargli danni da un Così Adesso è troppo potente Così ho ricostato a minare per tanto Io parlo di nuovo Quello è il mio piano Ma io posso farlo Potevo anche pararlo Vabbè Quello dello stock Quello che diceva stock Ti concedo che volevi pararlo Guarda, mi andava bene anche quello Ti giuro Eh, lo so Anzi, spero di regare anche su tu Che altro dov'è A prenderne quattro Non potevo neanche gioccare un po' Una verba Non male che poi si muore Se ci vorrebbe Il top del card Una scatola di refresh Una cura cosa è vero Andiamo avanti Andiamo avanti così Si è già curato un quattro Ma poi è complicato Perché fermarsi quando non sono davanti E' quello che diceva anche l'apo Vai Teo Purtroppo Mi fido di te Io mi fido di te Cosa sei disposto a perdere? Anche devi survarci La L'intelligine L'entro Quanti punti si escono 3-0 Guarda il sui tasco Quanto stai Io due due Però se per devi giocava anche io Adesso Mi fai sempre portare le cose Poi te ne vai ogni volta E' tu che rivitare Mi ho cadato a mangiare il cane Io ne ho di cose da fare Studiare Ho gli esami Un po' come un idiaca Le cose che contano davvero nella vita Se te che rivitarti Se non è arrivato che c'è un rive bimbo Cosa fanno se a livello? Se a livello parlo due salveggio Nel dubbio Si Così puoi parlare Apparo la sesta Guarda Ne vanno e ti scappa Un quattro Un quattro ha fatto il giretto e rimischiato tanto non l'ha toccato, basta sono rimasti sono rimasti e... morto si va come una pestante da 4 io ero lì 3 a volte succede che mi tolgo 5 l'anni a volte... no 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 ma... no ma se non si sarebbe avvicinato no 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 secondo me tutti quegli anelli hanno tipo gli spiriti sono riuscito a lasciarlo? sono riuscito a lasciarlo? ma guarda vedi ci sono i simboli le macchine è vero però per avere questo potere moriranno 2 anni non è stato facile, non ce l'ho fatto sei un vago sono più bravo prima della ferita fresca nemmeno 2 in fondo eh? voglio insegnare come si fa quello per l'aroma strana ci l'ha fatto volare non è vinto su un po' questi cazzi 2 su 3 adesso... ho scoperto una cosa fantastica parculo è presente lo zigeroth si il portalino posso saltare solo qua? questo lo so vorrei passare con cosa? se lo zigeroth con tarm puoi saltarli si puoi saltare anche muri e nivia si puoi saltare anche l'alberella puoi saltare anche l'ultimità nivia si sai anche cosa puoi saltare? il muro di yorik è il muro di yasuo? no perché non è fisico quello di yasuo ma quindi parla così guarda non è te strane con l'ultimità allora sai cosa stupere yasuo? no yasuo è per autistici adesso puoi riflesciare ma c'è esattamente quello è il tuo piano vero? no yasuo c'è con una cupana dopo 45 minuti tre quarti di vita e poi quando mi prendo quando mi entro il secolo apparticato dopo due pezzi prende tutte le con il cerchio si praticamente gli mette tutte le gemme delle macchine qui con il cerchio se volete Se tu metti il cespuglio vicino al board rimanti con il filetto d'erba che puoi metterti sui scatti blu. Poi? Allora bisogna unire 5 qualcuno per fare benvenuti. C'è la banca di Riven con la board. Quanta è? 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 Che c'è mezza? Che c'è mezza? Che c'è mezza? Che c'è mezza? Che? 9 e mezzo? 8 Che ero cosa figa da fare? Lui era tra l'altro che sono solo più 500 e più 1000 percorso. Sulla quella in centro e le 12. Era fantastico. Non hai mai visto in lane? Pronto? Da 1000 e 2000 e mezzo non c'era ancora. con le risate, i walkie town questo è il 1.5 qui qui c'è il 1.5 la Q, auto attack anziché alcuni auto attack precede la risata si esatto c'è un testo youtube che è tipo te li passo in 3 andiamo entrambi i pari se ti ripeto con il piacato 2.5 siamo pari ai pari ok, in centro invece? in centro invece sono 11.5 vabbè fanno altro le due laterali eh si, se tira verso fa qualcuno che spara quattro quello pensavo lo sapesse non ricordavo qual è un disegno ma diventa uguale 4 no, no no sono 4 la buona sparo 4 la buona sparo 4 si, si, ok però pensa che non le uso mai non riesco mai a farle e io ho il 3 cioè tengo il board bene fino al 2 poi al 3 in realtà non ho dei pezzi di bianiteschi e devi chiudere quando tu preferisco giocare bello che tu faccia fatica a chiudere con quel mazzo si vabbè come pensi al piano iami la vendetta iami del resto si chiamava il mazzo non lo ricordo